E dov'è meglio di qui, allora? In Val d'Isèl? Parigi. Place Dauphin, vicino al Pont Neuf. Seduto fuori al bar, con un caffè, un croissant caldo, con burro e marmellata di fragole come ripieno. Allora andiamoci, possiamo prendere un Eurostar anche adesso? No. Ma hai appena detto... Tu non capisci, Clark. Voglio stare a Parigi, essendo me. Il vecchio me. Con le ragazze francesi che mi fanno l'occhiolino. Potrebbe essere un obiettivo. Se chiudo gli occhi adesso, so esattamente che effetto fa a trovarsi in quella piazzetta. Mi ricordo ogni sensazione. Non le voglio cancellare con la lotta per riuscire a stare seduto al tavolino. O con i tassisti che si rifiutano di prenderli e l'alimentatore della sedia a rotelle che non ha la spina francese. O con i tassisti che si rifiutano di prenderli e l'alimentatore che non ha la spina francese.